Reduce da una stagione in bianco-nero e in chiaro-scuro, Karim Laribi è già il leader di questo Cesena. In Coppa Italia ha siglato il primo gol stagionale ufficiale e tanti tifosi, in estate, lo hanno acclamato come un vero beniamino. In tanti mi ha scritto se tornavo, quindi sicuramente è una cosa positiva, perché al di là della non brutta stagione passata l'anno scorso, ma della stagione passata l'anno scorso vuol dire che è qualcosa lasciato, quindi quella è la cosa più importante. La trattativa non è stata facile, a scadenza col Sassuolo c'è stato un intoppo nelle visite mediche, che in nero-verde sono molto scrupolose. Superato questo ostacolo, col Cesena il cetrocampista ha firmato un triennale, ma la sua prima destinazione non era la Serie B. Mi aspettavo altro, però sono contento di essere qui, non ho nessun tipo di rimpianto. Io col direttore sono sempre stato sincero, siamo in ottimi rapporti, che se ci fosse stato un club di A che facevano un'offerta entro tempo determinato, io, il direttore lo sa, sarei andato di là, però questo non è successo per via del mercato, però in via avrei scelto solo di continuare il cammino qua. Grazie.